Lezione di yoga numero 5 Sei disperato che non riesci a fare le prime 4? Te capisco, ma solo uno su mille ce la fa. Ma non sei tu, so io. Prova con l'occhio, vai. Sei buono? Sono buoni quasi tutti. Prova a fare col collo, vai. Devi muovere solo il collo. Fermo con le spalle. Non sei buono? Te lo faccio vedere da l'altro. Non sei buono, eh? Che devo fare con te? Non sei buono quasi a fare niente. Ti saluto, guarda. Ciao.